Voglio ringraziare tutti i volontari che da giorni si stanno adoperando per la pulizia del cantiere, uno dei cantieri più grandi di Forlina, il quartiere Romiti. Un grazie di cuore perché hai il lavoro e tanto, capisco le difficoltà e gli scoraggiamenti, ma i risultati stanno venendo fuori. Quindi grazie davvero da parte di tutta l'amministrazione comunale di Forlina. Grazie.